Ciao, sono Giorgio Altavilla, kinesiologo e esperto dell'esercizio fisico di esercizio vita. L'artrosi è una malattia degenerativa cronica che comporta un deterioramento della cartilagine, dell'articolazione che ricopre l'osso sottostante. Questa causa un'infiammazione che provoca dolore, limitazione dei movimenti. Oltre alla colonna vertebrale, le zone più frequentemente colpite sono anca, ginocchio, le dite delle mani e i piedi. Che affetto d'artrosi si trova ad affrontare problemi più grandi dopo essere stata a riposo per molto tempo, ad esempio la mattina al risveglio? In questi momenti l'articolazione viene sollecitata dopo diverso tempo di immobilità e il dolore diventa quasi insopportabile. Se stai cercando di migliorare la tua situazione, devi sapere che il nostro servizio è basato sull'attenzione che mettiamo nel progettare il tuo allenamento. Per questo vogliamo conoscere la tua storia, la tua quotidianità e vogliamo esaminare attentamente la tua documentazione clinica. Se vuoi accedere al percorso, contattaci tramite mail o chiama direttamente Esercizio Vita.